non sono ancora al mio 100% sono ancora in una condizione un po' precaria quindi perdonerete ancora una volta questa voce nasale che sicuramente andrete a sentire nel video però stasera c'è la Juve e quindi non possiamo perdere tempo non possiamo lasciarci sconfiggere da un'influenza dobbiamo parlare della partita di questa sera perché con i risultati di questo weekend poi ne parleremo nel corso di questo video c'è tanta pressione sulla Juventus bisogna dirlo con grande chiarezza e quindi bisogna tornare alla vittoria questa sera come ieri chiedeva Allegri ieri l'obiettivo di Allegri per tutta la conferenza stampa è stata questa torniamo alla vittoria torniamo a vincere torniamo a seguire il nostro percorso e quindi mi affido completamente a quella che è la sua lettura perché sono completamente d'accordo vietato fare passi falsi questo è lo slogan di oggi questa stasera ci guarderemo insieme la partita in live ovviamente su twitch e cercheremo di capire se questa Juventus potrà considerarsi uscita da questa sorta di momento di crisi di risultati o se si aprirà un vero e proprio dibattito ovviamente ci auguriamo che possa essersi conclusa questa situazione con quei 180 minuti di follia tra Empoli e Inter vediamo se sarà così oppure no oggi facciamo un video un po particolare perché solitamente il giorno della partita andiamo a considerare quelli che sono quasi tutti i dati la totalità dei dati oggi ne ho raccolti tre che secondo me sono molti interessanti e ci fanno capire un po quella che potrebbe essere la situazione della Juve quindi se siete pronti possiamo iniziare ovviamente se volete lasciare un mi piace un commento in iscrizione al canale è sempre un piacere ecco diciamo che è sempre ben visto da parte mia aiutate a far diffondere questi video far derivare a quante più persone possibile l'Udinese è la squadra che corre meno in serie A quella che corre di meno con una media di circa 107 chilometri a partita la Juventus invece all'ottavo posto con una media di 111 che cosa significa nulla perché non è quanto corri ma come corri però sicuramente quest'anno la Juve ha avuto una marcia in più proprio dal punto di vista della corsa Allegri a inizio anno ha ribadito spesso e volentieri che la Juventus doveva correre più delle avversarie se voleva cercare di portare a casa il mio risultato possibile diciamo che un po che non sentiamo questa frase ma vale ancora l'Inter correva più della Juventus e secondo me nella partita si è visto ecco noi dobbiamo cercare di buttarla anche da questo punto di vista perché tecnicamente siamo superiore all'Udinese questo è un dato di fatto se riusciamo a essere superiore all'Udinese anche dal punto di vista fisico difficilmente poi si riuscirà a non portare a casa i tre punti tra l'altro l'Udinese è una situazione di classifica un po particolare sicuramente non si stanno divertendo e in trasferta hanno fatto molta molta fatica hanno vinto soltanto una volta in questa stagione in trasferta poi hanno collezionato qualche pareggio e ovviamente qualche sconfitta però sicuramente non si trovano proprio a loro agio quando devono giocare fuori da Udine cerchiamo di sfruttare questi nostri punti forti ma soprattutto questi loro punti deboli perché poi di punti forti ne hanno e c'è un dato che è clamoroso e quando l'ho letto ci sono veramente rimasto male perché l'Udinese in questo momento qui nel quale vi sto parlando è la squadra che in serie A dribbla più di tutte hanno completato in totale 227 dribbling con una media di 987 a partita significa che ogni partita almeno 10 dribbling da parte dei giocatori dell'Udinese li vediamo la squadra che dribbla di più poi ovviamente anche qui non vuol dire niente perché l'inter è quella che dribbla di meno ed è comunque meritatamente al primo posto però l'inter ha un sistema di gioco consolidato basato sul palleggio sulla ripartenza e sul passaggio che riesce anche a superire l'assenza di dribbling Inzaghi per scelta non va a dribblare l'Udinese invece dribbla tanto corre poco ma dribbla tanto quindi la Juventus che invece al dodicesimo posto con circa 7 dribbling a partita secondo me oggi dovrà stare molto attenta a quella che potrebbe essere la superiorità numerica creata dall'Udinese che oggi ha uno squalificato pesante noi ne abbiamo uno che è Danilo loro ne hanno uno che per Eira per l'egemonia ovviamente per l'equilibrio delle loro partite però noi dobbiamo cercare stare attenti appunto a questa superiorità numerica e se serve chiudere e raddoppiare sugli esterni un po' sulla falsa riga di quella che era stata la partita della Juventus col Sassuolo la ricorderete perché la Juventus poi difendeva 4-4-2 cercava di limitare sia Lauriente che Berardi e c'è l'uscita alla grande annullando entrambi gli esterni del Sassuolo l'Udinese non gioca con il 4-2-3-1 però bisognerà per forza di cose cercare di prestare attenzione a chiudere tutti gli spassi il terzo dato arriva direttamente da quella che è stata ieri la conferenza stampa di Allegri perché ricorderete che sin dall'inizio Allegri l'aveva buttata sotto questo punto di vista e cioè l'Udinese non merita la classifica che ha perché tante volte ha preso gol nei minuti finali di partita ora a me sinceramente che abbia preso gol nei minuti finali di partita non interessa nell'analisi la classifica poi è quella lì anche noi abbiamo segnato tanti gol nel finale e ci meritiamo la classifica che abbiamo non vado a mettere in discussione perché il gol fatto al novantesimo vale come il gol fatto al minuto 1 non c'entra niente però ovviamente si può analizzare quelle che sono le tendenze della squadra avversaria e cercare di capire come giocare anche la partita in base a questa cosa qui perché l'Udinese ha preso ben 25 gol nei 15 minuti finali di primo e secondo tempo che sia il primo o il secondo nei 15 minuti finale l'Udinese fa molta fatica tant'è che ha preso 25 gol, sono tantissimi ben 14 nei 15 minuti finali di gara che cosa significa? che questa è una partita che dura 100 minuti non ne dura 90 non ne dura 90 più recupero, ne dura 100 più recupero fino all'ultimo secondo se rimane in bilico dobbiamo crederci perché la partita non è finita finché non c'è il triplice fischio come tutte ma maggior ragione è questa perché è una squadra che come ieri ha detto giustamente Allegri nel finale rischia di subire l'imbarcata invece loro partono forti nei secondi tempi fanno un primo tempo un po' così nei secondi tempi tra i primi 15 minuti e i successivi 15 segnano tanto perché nella mezz'ora della ripresa hanno segnato ben 12 gol quindi questo è un campanello d'allarme per la Juventus ma una volta che lo abbiamo individuato possiamo reggere l'urto, l'impatto di quello che dovrebbe essere il secondo tempo dell'Udinese ripeto sulla carta non dovrebbe esserci partita quindi cerchiamo di andare proprio in quella direzione lì perché la vittoria dell'Inter, la vittoria del Milan che il Milan si porta soltanto a un punto della Juventus preoccupano e non poco in questo momento e noi abbiamo sulla carta una partita abbordabilissima una volta individuati i punti forti e i punti deboli dell'Udinese andiamo in campo, facciamo valere la nostra superiorità tecnica facciamo valere anche magari quella fisica e portiamoci a casa i tre punti perché di questo dobbiamo parlare nell'analizzare questa Juve qua Probabile formazione ci sono delle novità perché ieri si pensava potesse giocare ancora costici invece la probabile formazione della Juventus dovrebbe essere qualcosa del genere Esni, Gatti, Bremer e Alexandro perché Daniele è squalificato Cambiaso sulla sinistra Rabiolo Catelli e McKennie UEA sulla destra Milik e Chiesa confermato il 3-5-2? Allora, di partenza secondo me assolutamente sì e non possiamo fare altro che andare a parare i 3-5-2 però secondo me in determinati momenti della partita con la tendenza di Chiesa di iniziare dalla parte sinistra l'azione UEA potrebbe alzarsi McKennie l'abbiamo visto spesso e volentieri nella parte destra come esterno ovvero è proprio più che come mezzala e la Juventus secondo me in alcuni momenti attaccherà con il 3-4-3 vedremo una configurazione del genere poi difenderà 5-3-2 come al solito o magari proprio per raddoppiare sugli esterni potremmo avere addirittura un 5-4-1 con Chiesa e UEA che vengono a fare un po' gli esterni nel centrocampo mi sembra un'opzione un pelo eccessiva per quella che dovrebbe essere la partita però secondo me quando si distende la Juve cercherà di prendere l'ampiezza con Cambiaso e Chiesa da una parte quindi Cambiaso che entra dentro il campo e Chiesa che prende l'ampiezza e McKennie e UEA che faranno la stessa cosa dall'altra parte non lo so questa è un po' la mia lettura secondo me può essere un'azione molto molto interessante e la parola d'ordine è una sola tre punti tre punti non possiamo fare altro che conquistare tre punti se la Juve stasera non conquista tre punti è un problema e quindi forza ragazzi forza Juventus perché il Milan e l'Inter ci hanno messo in una situazione di pressione ma noi dobbiamo uscirne e possiamo cioè premoci chiaro possiamo assolutamente uscirne perché quella di stasera è una partita importante delicata Allegri ieri detto non decisiva ma molto importante ma che è nelle nostre corde assolutamente nelle nostre corde dai portiamo a casa questi tre punti che ci servono poi ricominciamo a fare un finale di stagione come si deve e cerchiamo di portarci a casa anche la Coppa Italia dell'inizio